Allora, è la seconda volta che provo a registrare questo nuovo episodio di come battere Minecraft tutorial, eh? Soltanto che la prima volta che ho provato a registrare l'ho fatto in hardcore, pensando che sì, dai, sti cazzi, so sopravvivere per 50 secondi su Minecraft. A quanto pare mi sbagliavo, hardcore sempre, perché a quanto pare ho deciso che la mia fine deve essere questa, e... Nuova skin, non cambia molto per la generazione dell'iron nella 1.18 rispetto alla 1.17, anzi, secondo me è anche più facile trovare la roba nella 1.18 rispetto alla 1.17. Questo spawn è leggermente migliore per food management. Alcune cose che ho imparato della 1.18 sono che nelle caverne trovi comunque del cibo, perché lì ci sono le glowberry, che sono praticamente l'unica fonte di cibo che cresce nel sottosuolo, ed è il rampicante che hanno aggiunto. C'è anche una fonte di legno e di lag, a quanto pare. C'è una fonte di legno sotto terra e che sono i nuovi erberelli del cazzo che crescono. Quindi non dovremmo avere problemi, lì c'è un portale. Interessante. Allora, voi vedete questo buco che sembra una cagatina di piccione? Magari lo è, però nella 1.18 ho scoperto che i buchi si ricollegano sempre a una caverna più grande, o quasi sempre. E quindi, cosa interessante e non, è che se vogliamo andare a esplorare dobbiamo essere un minimo preparati. Non tantissimo come prima, perché prima per andare in una caverna dovevi almeno avere un botto di cibo, ma un botto di cibo perché sapevi che se non potevi tornare nella superficie eri morto di fame, e lo sapevi dal principio. In ogni caso, io voglio questo, che sono utili più tardi per gli scaffolding. Io sto già pensando in avanti quando in realtà non sono neanche sicuro che riuscirò a resistere un giorno su Minecraft. A quanto pare, perché mi metto a nuotare nella cazzo di lava, sono un testa di... Sto registrando il video nel 24 dicembre, nel caso qualcuno fosse ancora vivo e... Buon Natale. Non penso che uscirà il 25 questo video, vabbè. Buon Capodanno, suppongo. Ok, non ho mai craftato nella mia vita due asce di legno. Non so se sto facendo bene o fallendo in questo momento. Scusami, sono cagato addosso. Interessante morire di fame nel primo episodio di una serie hardcore. Ok, ho raccolto più di quello che dovevo. Il bambino l'ho ucciso perché mi andava, non perché mi servisse davvero farlo. Fammi cambiare... Camminando con molta calma e modestia perché qua non stiamo mica andando di fretta. Mangiare qualcosina così magari non vada alla velocità di un bradipo senza gambe. Consiglio che davo anche alle persone che non sono pratiche di Minecraft, eccetera. Se permette F5 mentre state scavando delle cose, potete guardare dietro le vostre spalle senza dover smettere di scavare. Il che aiuta ad accorciare i tempi e restare più sicuri. Un'altra cosa che volevo trovare era il ferro, ma... Mi sa che con quello non ho avuto troppa fortuna. Let's go! Uno. Torno alla crafting table, direi. Eh. In modo cazzo stava la crafting table. Oh no. Non mi sono perso di nuovo. Mi sono perso di nuovo. Direi che possiamo andare a esplorare le caverne con la roba, direi. Sì, sì, mi piace come idea. Di solito devo penare satana per avere delle zucche. Stavolta invece mi è andata un... di lusso. E intanto procuriamoci altro cibo. Non abbiamo tempo di andare a prendere più ferro, più risorse, più materiale. Una delle cose importanti da fare è compattare le risorse. Quindi io farei questa cosa qua in modo da non avere cose in mezzo. Abbiamo tutto quello che ci serve e anche di meno, perché così abbiamo spazio per cosa che ci serve di più. Let's go! Il fatto che non stai trovando i caverni nel caves and cliff update. Sono un po' di cliff, eh, ma poche, poche caves. Poche, poche caves. Tutto il materiale che ho trovato l'ho trovato praticamente in superficie. Non ho molto tempo in realtà. Quindi mi sa che ho chiudito l'episodio senza aver trovato effettivamente un cazzo. Che è il primo episodio più triste che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ok. La scala di valori si è appena restabilita e io ho trovato un cazzo di villaggio. Quindi direi che le caverne possono aspettare. Perché il villaggio è molto più importante. Come tutti sanno dalla mia prima serie, il villaggio è una delle cose fondamentali. Ed è stato un culo che l'abbiamo trovato subito invece dell'ultima volta che abbiamo dovuto penare l'inferno. È abbastanza sfigato come villaggio, eh. No, restate bene in casa, restate bene in casa perché siete più facili da catturare. Ok, uno intrappolato. O aspettiamo la notte che tutti siano dentro casa. Qui c'è una brewing stand. Non male. Stanno tutti a letto i ragazzoni. Esatto. Questo è l'importante. Che vadano tutti a letto. E l'indomani si sveglieranno con una bella sorpresa. Ovvero gli arresti domiciliari. Vabbè ne ho trappolato abbastanza, eh. Questo qui è l'ultimo, dai. Adesso facciamo una cosa divertente. Ovvero cerchiamo di non morire per quest'Iron Golem. Ma... Prego non muociottarmi. Non è che potresti uccidere anche lui? E siamo a cavallo! Siamo a cavallo. Pensavo di finire l'episodio in una nota di merda, ma a quanto pare siamo a cavallissimo. Ehm... Facciamo una cosa. Let's go! Abbiamo chiuso anche lui. E direi che possiamo concludere qua l'episodio con il ritrovamento di un bellissimo villaggio. Ci vediamo nel prossimo video in cui vi farò vedere come utilizzare questo villaggio per sfruttare tutti gli abitanti. Come farebbe un bravo capitalista!